Candidata per la lista Stati Uniti d'Europa nella circoscrizione nord-est, Friuli-Venezia-Giulia, Veneto, Trentino e tutta l'Emilia-Romagna. Però parto dalla provincia di Venezia, città metropolitana e parto da Chioggia, un territorio bellissimo e importante per l'agricoltura, la pesca, il turismo, che ha un porto che ha desiderio di svilupparsi. Tutto questo noi vorremmo portarlo in Europa ma che l'Europa arrivi qui. Grazie a tutti gli investimenti, finanziamenti finora arrivati si sono sbloccate delle attività ma vorremmo far riconoscere che il piccolo, l'artigiano, la piccola impresa sono importanti dai territori, da questi territori. E quindi valorizzare tutto quello che viene qui prodotto per un'alimentazione sana, per un turismo vicino e per sviluppare questi territori da qui a Bruxelles.